E poi, tra l'altro, il Sikabura è il capo domestico più piccolo e nazionale, questo è un altro volito. Non vi metterà più grandi, ha una particolarità. Attenzione, chiudete la porta. Chiudete la porta. Possa, preso. Preso, apri, apri. Apri pure. Pugliato perché il gatto, come la condizione, tende a sbagliarsi. Come c'è l'ostanza, la proprietà, io non so più come ragione. Allora, mi diciamo il Sikabura. Quando vi come il colore di un gatto, la porta, il presente, la ma scelta, il gatto, il gatto, il mio inferno, il piccino. La particolarità del Sikabura è che il più spesso, vuol dire, che le tue, sono le tue. Allora, gli altri due. Pronti? All'unità 86. Grazie.